Una mattinata letteraria svoltasi presso Palazzo Sant'Agostino in Salerno per presentare il libro del professore Gianfranco Aiello. Sorrido ergo sum che ha suscitato sorpresa e curiosità fra le persone che hanno partecipato all'evento. Lo scritto ha teso ad eliminare le paure e le titubanze che sono in tutti noi allorché ci si porta dall'odontoiatra. Il professore Aiello ha dato risposte sulla tematica dentistica cercando di spiegare le nuove tecniche e le nuove metodologie odontoiatriche e mediche. La chiusura del testo alquanto toccante in quanto l'autore ha voluto ricordare il padre che per consentirgli gli studi dovette vendere in Moliterno, ridente cittadino della Basilicata, una casa che oggi ricomprata dal medesimo dottore Aiello è diventato un museo della regione, aperto tutti i giorni e che sta riscuotendo un notevole successo. Questo libro è dedicato a tutti gli odontoiatri che interpretano il loro compito come un compito medico e il compito medico vuol dire il bene del paziente e vuol dire la salvaguardia della loro salute e soprattutto la conservazione e tu sai quando io mi impegno in questa direzione. Non è dedicato agli odontoiatri o ai dentisti, pochi o molti che siano, mi auguro molto pochi, che indeputano questo ruolo come un ruolo tra virgolette commerciale. Un'occasione di riflessione profonda e seria sulla prevenzione, sulla salute e chiaramente su ciò che riguarda il libro. Uno studio attento, una valutazione importante sulla cura dei denti che chiaramente è un fatto sociale non indifferente per cui il nostro sostegno è iniziative che vanno all'insegna della prevenzione e della cura della persona.